Il carnevale più dolce d'Italia sta per tornare. Con un cocktail di allegria, folclore, musica e storia, la Kermess è pronta a invadere Viale Gramsci nelle domeniche di sfilata del 24, 31 gennaio e 7 febbraio. L'edizione parte già con numeri da record, mai nella storia dell'evento erano state fatte tante tessere, circa 900 in così poco tempo. Tra le novità citate dal presidente della carnevalesca Cecchini c'è l'iniziativa che aprirà ufficialmente il carnevale, il palio degli uomini nudi, una gara podistica semiserie in programma sabato 23 gennaio con partenza alle ore 16 dal centro storico e che prevede la corsa di uomini coperti solo da una mascherina e pantaloncini. Oltre 100 uomini nudi appunto riempiranno piazza a settembre e al termine della gara poi ci sarà una grande aperi carnevale, un aperitivo proprio per augurare un avvio eccezionale all'edizione 2016 e non solo, tante sorprese. Un altro punto forza di questa edizione sarà l'arrivo delle Winx, le magiche fattine tanto amate dai più piccoli. Le Winx saranno protagoniste della seconda domenica del carnevale, il 31 gennaio, con una serie di attività dal mattino fino al tardo pomeriggio, ma questo è solo uno dei primi importanti eventi del carnevale che vedrà tantissime future attività proprio nei mesi a venire. Ma il carnevale potrà contare anche sulla presenza di equilibristi, surfisti e iniziative da Guinness dei primati. Il getto invece sarà di 240 quintali e come sempre verrà lanciato dai giganti di carta peste dal carro della storica musica arabita. Tra questi anche 40 quintali di baci firmati perugina nel segno di una tradizione decennale. Il pupo invece sarà più che mai il re del carnevale, guiderà i carri durante il corteo per poi essere bruciato all'imbrunire del martedì grasso il 9 febbraio prossimo. Anche il 2016 sarà l'insegna della solidarietà a favore dei meno fortunati grazie alla lotteria del carnevale che devolverà una parte dell'incasso alle associazioni benefiche che vendono i biglietti e alla mensa di San Paterniano. Ai partecipanti inoltre verrà data la possibilità di vincere ricchi premi. Il prendigetto servirà a facilitare la raccolta dei dolciumi ma permetterà anche di sostenere le associazioni di volontariato, la carnevalesca e Federico Mezzina, il piccolo fanese affetto da morbo di crab. Quest'anno sarà un'edizione straordinaria, ogni anno ci superiamo e questo è l'obiettivo. Non ci poniamo limiti, questa è la sfida che ci diamo come carnevale. Penso, sperando nel tempo che non ci faccia qualche scherzetto, che sarà sicuramente un'edizione di successo e con tanta partecipazione.